Nome? Cecilia. Alvise. Anni? Diciotto. Dicassette. Provenienza? Albiano. Cavedine. Perché hai scelto Borlarotti? Perché tra le scuole che ho visto era la più bella. Perché è uno dei migliori istituti tecnici in Trentino, soprattutto per lo sbocco che ha nel lavoro. Perché meccanica e mecatronica? Per la passione della fisica. Sono sempre stato appassionato dalla meccanica grazie alle influenze che mi ha trasmesso mio padre. E in questa scuola hai trovato? Un buon clima, buoni amici, laboratori molto efficienti. Laboratori grandi e funzionali. Quale professione ti piacerebbe saprendere? Aeronautica. Vorrei diventare un imprenditore nel legno, proseguendo con l'attività di mio padre. A chi deve scegliere la scuola superiore? Buona fortuna nella scelta. Scegliete con calma e con cura che da qua si inizia a costruire il nostro futuro. Saluto. Bye. Ciao.